Il potentissimo professor Guido Baldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In vent'anni Fantozzi ha veduto e riveduto. Di Iesire di Carlo Teodoro Dreyer. Sei ore. Uomo di Aran, di Flaherty. Nove tempi. Ma soprattutto il più classico dei classici, la corazzata Cotionkin. Diciotto bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale. Scusi, che danno stasera? La corazzata Cotionkin. La corazzata. Bene, bene. Vadi, vadi. La corazzata. Coraggio. La corazzata. La corazzata. La corazzata. La corazzata. La corazzata. Grazie a tutti.